Amici un saluto da Luca, siamo appena rientrati, siamo all'ormeggio e andiamo subito a fare il riassunto della giornata di oggi. Bene, oggi dire che il pesce non c'era è un'eresia, perché il pesce c'è, ormai c'è, è in costa, il pesce azzurro intendo. Però è stata una giornata particolare, abbastanza difficile perché ovviamente boghe presenti ci danneggiavano nella ricerca di pesci ben più pregiati, però sul fondo può darsi che c'era qualche predatore che girava, questo ce lo testimoni al fatto che sono usciti un paio di serra, altri due ami sono stati rotti. Quindi diciamo i pesci erano un pochino svogliati, sul fondo abbiamo trovato alla fine, per chi ha insistito con sarda intera o mezza sarda, ha trovato dei bei sugarelloni. Mentre a mezza acqua è stata difficile la ricerca dello sgombo, tante acciughine presenti saltavano di qua e di là, era sintomo che c'era qualcosa che disturbava l'azione dei pesci. Però da una parte il risultato è stato fra virgolette un po' negativo, da un'altra fa capire che sempre di più ci avviamo nella stagione quella più particolare, quella più propizia per pescare il pesce azzurro. Vi lascio agli highlights ricordandovi che i pesci usciti oggi sono nell'ordine sgombri, sugarelli, immancabili boghe, qualche sparaglione trovato sul fondo e poi ovviamente un paio di serra. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!